ci sarà la Santa Messa qui proprio sul palco, poi lunedì 17 settembre ci saranno altre serate organizzate, dopodiché martedì 18 settembre ci sarà alla fine della Messa e delle varie cose organizzate dalla Chiesa lo spettacolo teaterale, mercoledì 19 settembre ci sarà un'altra serata, giovedì 20 settembre, venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 si concluderà la manifestazione con la processione della Madonna di Maria Santissima Doloreta e Ponticelli adesso vi passo a presentare due ragazzi che avete già ascoltato, insieme canteranno Acqua e Sale ecco poi Gianluca e Marika Grazie a tutti Scusami Oreste, il microfono non funziona, quindi riproviamo. Scusami Oreste, il microfono. 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 S Democrstormeone. Scusami Oreste, il microfono. Scusami Oreste, il microfono. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti